ciao andrea ci sente male male ma te allora prima di farvi la domanda da uno potrò fare i 10 secondi dei complimenti anzi 15 secondi non ti preoccupare dai si è molto gentile vai avanti allora complimenti a romina minatero brava simpatica e televisiva complimenti a deborah skillu brava simpatica e televisiva bella si bella marilena no mi dispiace ma una palla marilena è proprio una palla fai il bravo fai il bravo fai il bravo e poi basta dai fa un po' bambacione fa troppo il tifoso comunque vabbè e anche perché la nostra ragazza è molto brava belle televisive simpatiche ok quasi tutto dai marilena è un po' noioso dai che forte da finirlo basta ma che cosa si è guardata ma che si è il mercato da roma è il mercato da roma è il mercato da roma e poi hai scopo di sceppo perché se è il topo morto un testa qui c'hai un topo morto un testa fate sto sceppo te prego mi sa fa più se è il topo morto questo che c'è il testa scopo di sceppo la telefonata Alfredo rispondi sul mercato della roma forza ma che gli devo rispondere niente prendiamo avanti non sapevo all'inizio e alla fine che gli devo non lo so la domanda del mercato della roma è un mercato che prevede adesso qualche uscita c'è questo discorso bojan che non rientra nei piani di Zeeman spread my wings and fly away I believe I can show I see me running through that open door I believe I can fly I believe I can fly I believe I can fly